non so c'è un computer sono in padella sulla piastra buone, perfetto questo ad esempio e 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 com'è andato il viaggio immagino quella neve è un po' difficile però meraviglioso no? hai prestato attenzione? hai prestato attenzione? perfetto allora tutto bene allora da una giacca ok bellissima s no fate io che sono sbagliata cioè sei e faccipo Ah dai anche il cavo per le cuffie Che spettacolo Comunque allora tu stai bene ok Hai un po' freddo alle mani T'ho pensato guarda cosa per te Tra le altre cose Ho questa forza dell'acqua calda Appena 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 rinvita In realtà ho sentito la tua macchina a levare Quindi ho messo sull'acqua e bollitura E insomma si è preparata subito Questa è una borsa dell'acqua calda Abbastanza piccolina come puoi vedere E è adattissima anche da portare in giro Ho anche appena acceso il camino Siccome si vede perché sono ancora tutta rossa Dal freddo fuori che sono andata prendendo la linea Quindi ho preparato tutto Perché tu qui Forse veramente hai caldo E' vero fuori nevica bene Prima sono andata a fare Una passeggiata E ancora non nevicava Poi cavolo ha cominciato a nevicare tantissimo Meraviglia Meraviglia Che a me piace tantissimo Se l'avete tanto Spurcando Se tratta così Ci scaldi le mani Ecco qua Tieni pure Sì Senti Caldissimo Ti puoi scaldare la pancia Le mani Quello che vuoi Bene Sono contenta Cosa? Non dovevi? Ma è meravigliosa Ma grazie Ma davvero quando vedi Il vaso E' bellissima Io amo le stelle di Natale No è fatto bene Perché così me la posso poi portare a casa Questa Perché invece è una strada di rata alle grosse Mi costa E' fatto benissimo Prendermi questa piccolina Ma che meraviglia Anche tutti I fiori che stanno crescendo Le foglie E' meravigliosa Grazie di cuore Adesso vediamo Dora posso mettere Adesso ci pensiamo Magari mi aiuterai A metterla dove sta meglio Grazie mille E' un pozzo qui intanto Poi Per te Per te Ogni intanto volevo chiederti Se voi volevi una tisana O una soccolata canata Per scaldarti Tisana Ok Ho delle emozioni bellissime E va bene Allora Giusti scaldi un po' Poi scegliamo Un episodio insieme Sai che io In una collezione Sicuramente Troverai quella che ti piace Poi sempre per te Ti ho preparato Questa coperta Allora Questa coperta E' super 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 Marbida E' una di quelle Anzi E' proprio Una di quelle Che vengono Dalle spa Di montagna E si guarda Nelle piscine Nell'idro massaggio Vicino all'idro massaggio E' stato un regalo Dei miei genitori Quanto ha gradito E come puoi sentire Anche guarda Che guarda E anche con voi Puoi giocare Che diventa più chiara Più scura Ed è super Morbida Non so sia la coperta Più morbida Che ho Mi ha detto Cavolo La devo portare In montagna Assolutamente Perché è perfetta No? Così ci sembrerà Un po' Anche di essere Nella spa E' bella Gross Si guarda Io farei così Tutto il giorno E questo Quando vuoi E' per te Ti piace solo Nel fuoco Ti sta già venendo Un po' sonno Ci sta Anche un po' sonno Devo dire Sono contentissima Che tu sia qui Ed anche loro Dove aver preso Il nostro Tisana Di Di far Ti vedere L'albero Mi sono contentissima L'ho già fatto Perché Non riuscivo Ad aspettare Perché Sentivo troppo Il bisogno Di avere Un albero Di Natale Però Però in realtà Non è completissimo Mancano ancora Alcune Alcune palline Poi Non so se ne sono Super convinta Quindi in realtà Dopo Te lo faccio vedere E se vuoi Dare dei suggerimenti Se vuoi spostare Un po' di palline Un giorno E toglierle Tutto in mano Della chiesa Che tu E questo superlativo Se non mi sbaglio Mi finto anche Quel premio Per l'albero Di Natale Esatto Quindi Sì Mi finto di te Il mio è Oro e rosso Eh lo sai Ome colori caldi Questa coperta Veramente Sopra 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 E poi Ti ho Ti tenuto Anche un pigiama E qui Insomma È importante Anche scaldarsi Bene la notte Perché vengono Le temperature Abbastanza Zellite Quindi Ti ho preso Un Pigiama Di Pile Ecco C'è un po' Da rovere Eccolo qua Di quelli Proprio Coccoli Qui abbiamo Ad esempio Un cuore Qui un altro cuore Ecco Un altro cuore Lo scaldarlo E' proprio caldino Anche questo E Prima di andare a dormire Te lo metterò un po' Sul termo Per scaldarlo Poi sulle Troverai anche Lo scaldotto Probabilmente Avrei più caldo Che freddo E in queste notti Al massimo Spegnere lo scaldotto Non so Ti toglierai Lo stato di coperta Allora Mi ne dici Andiamo a scegliere La tisana Ti faccio Ti faccio Scegliere Tra due tazze Che tazza vuoi Vuoi questa 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 contiene Un po' meno Un po' meno Acqua Vedi Fatta La scarabina E anche qui Ci sta E questa L'ho presa Si dice Schloss Per vedere Non ce la posso fare E qui c'è tutta L'immagine Vedi Perché Beh Ogni sono tutte le bancarelle E ogni due per tre C'è una C'è una bancarella Che fa un problema E loro si ti fanno Pagare Tipo Quattro euro E poi se ridai La tazza Ti ridanno Due euro Però Io Una tazza Non la sono tenuta Perché la trovo Troppo carina Dove guardano Te la faccio Troppo bella E l'altra È invece Questa qui Questa è un po' più a tema Di questi giorni Ed è scritto Appoggersi Nel caldo Abbranzo Di una tisana Appoggersi Nel caldo Abbranzo Di una tisana E questa è un po' più grande Come vedi Quindi dimmi tra i quali vuoi E questa che è un po' più grande D'accordo Io prenderò Per le tisane Lo sai che è una vasta scelta Ad esempio Qui Oh La tisana La tisana La tisana Della serizza Per essere insomma In tema Queste due Si chiamano Bonni E sogno di leggerezza Questo finocchio Anice e menta Questo invece Camomilla Tiglio E verbena Oppure Un te nero Con petali di fiori Caramello Brugna secca Vodka Cioccolato O l'essenziale Di clementini Papà Pusti vedete la fina però secondo me è il ciò che ti piacerà di più questa senza l'arancia mi sbaglio bene bene cazzo l'arancia avevo tutto il bisogno sì no no ok nel punto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.